Oltre un'ora ragazzi, bravi, forza da questa parte, molto bene, sia lento che pericoloso, faccia parcheggiare lei, gli andini di scuola, di Polizia! Leo, Natale, Giovanni, e ancora, Lucia, la Polizia, Lucia, la Polizia! Ma giusto c'è uno spazio per il calcolato preciso, preciso, per un'altra autovettura, e allora a questo punto bisogno del vostro aiuto! Tutti insieme, vieni, su, 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 vai, 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 le mani davanti, iniziamo con le muovere per bene, con la voce, vai, 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 vai! i nostri piloti arrivano i motociclisti forza ragazze ciao andrei giovanì francesco non ne manca un lappello che lui ha fatto l'altro dopo il papo volante allora eccolo che vola da quella parte vai Peter Pan ecco di qua un cino Domenico e gli altri protagonisti di scuola di polizia il terribile Ortega la sua splendida brigadiera il giudice e secondo terrorista il Iron Man grazie alla nostra regia grazie a T.C. John Ruga grazie al nostro Sasha per gli effetti speciali il maresciallo Antonio Dursi il capitano Davide Badovan ma c'è un modo speciale con cui ti vogliamo salutare quest'oggi arrivano arrivano da quella parte perché tutti loro per voi oggi sono i ragazzi di scuola di polizia tutti pronti al metri a burlo uno, due, tre non si sono il sentito, tutti li ho lì e rooting un paese di scuola di polizia però non si suono i cari interessanti non si suono 1 due, due, due siamo la sua drago e truca testa stanta